Vediamo questo video quanto dura. In ogni caso la maglia di Sankara c'è, spero che mi protegga, la potete trovare nel mio store. Quest'oggi il Burkina Faso, o Burkina Faso per dirla alla francese, è uno degli stati più poveri al mondo, con 21 milioni di abitanti, di cui il 60% analfabeta e un pil pro capite di a malapena 715 dollari. Il Burkina Faso odierno è quello che il rivoluzionario Thomas Sankara avrebbe voluto evitare. La storia non si fa con i se, né tanto meno con i ma, eppure se Sankara non fosse stato ucciso, difficilmente il paese sarebbe oggi in uno stato pietoso. Ai giorni nostri, purtroppo, il ricordo di Sankara è stato relegato in un angolo oscuro della storia. Ingiustamente, mi verrebbe da dire, questo non se lo merita, perché la sua è una storia che merita di essere ascoltata. In molti la stavate aspettando, questo video era più atteso di Natale, e dunque eccoci qui. Partirei subito con una domanda chiave. Chi era Thomas Sankara? Negli anni cinquanta l'Alto Volta era ancora una colonia della Francia, questo a partire dalla fine dell'Ottocento. Per Parigi, l'Alto Volta era un possedimento coloniale secondario, di scarso valore materiale, sfruttato esclusivamente per la coltivazione del cotone o per fornire giovani coscritti. Come molti altri paesi africani, l'Alto Volta era una creazione artificiale. La conquista francese riunì in un'unica entità popoli che parlavano una sessantina di lingue e che avevano culture diverse che componevano l'ormai crollato impero mossi. La pervasività dell'amministrazione francese continuò, e anzi si intensificò persino negli anni successivi all'indipendenza del 1958, contribuendo a impedire lo sviluppo di una robusta identità nazionale. Soltanto quando con gli investimenti del governo Sankara, il paese iniziò a estrarre minerali preziosi nel nord disabitato, i francesi iniziarono a mostrare un certo interesse nelle questioni locali. Sankara visse l'adolescenza in un paese segnato da tumulti e colpi di stato. Nell'arco di soli 16 anni si susseguirono ben tre colpi di stato. Prima con Maurice Yameogo, deposto dal comandante Sangulè Laminsanà, il quale a sua volta fu spodestato dal generale Saïe Zerbo, che poco più di un anno dopo venne rimpiazzato dal governo militare di Jean-Baptiste Huedrago. Hai una pallida idea di quanto sia durato il loro regno? Ehm, sugli 80.000 anni? In un paese contrassegnato dall'instabilità, Sankara, che si era arruolato militare negli anni 70, uscì dall'accademia impregnato di ideologie come il marxismo, il socialismo e l'avversione all'imperialismo neocoloniale. Rientrando da un periodo di addestramento all'Accademia di Ansirabè, nell'isola di Madagascar, nel 1972, Sankara si trovò davanti un paese che, anche a causa del recente conflitto con il Mali, si era trasformato in un disastro sociale e sanitario. Solo il 3% dei bambini frequentavano infatti le scuole medie, e problemi come malnutrizione e malattie favoriti da siccità ricorrenti, erosione del suolo e bassa produttività dei raccolti avevano fatto precipitare l'aspettativa di vita media a non oltre i 40 anni. Con il colpo di stato che portò alla caduta di la Minzanà e alla presa di potere del governo militare di Zerbo, come riconoscimento del seguito che si era creato intorno a lui, Sankara, rifiutando la possibilità di diventare presidente, accettò invece, con riluttanza, l'incarico di ministro dell'informazione, ministero tipico dei paesi sottosviluppati e che spesso è legato alla censura e alla propaganda. Per i giornalisti l'approccio di Sankara fu completamente l'opposto di quello dei suoi predecessori. Sankara incoraggiò infatti i giornalisti a riportare la verità dei fatti che si registravano, un fatto inaudito prima di allora. Fu così che nei quotidiani principali l'Observatò e il Carrefour africain iniziarono ad apparire scandali e denunce che toccavano gli alti vertici di potere. A questo fatto l'amministrazione Zerbo reagì duramente, convocando Sankara e accusandolo di tradimento e anche di ingiurie per aver fatto trapelare certi dettagli. In risposta, Sankara rassegnò le proprie dimissioni, criticando via radio il comitato militare di ignorare gli interessi del popolo per servire quelli della minoranza elitaria. Guai a chi vuole imbavagliare il popolo, disse in quella precisa occasione. Gli altri ufficiali reagirono prontamente, arrestando Sankara, un inconveniente che però non gli impedì di restare comunque in contatto con gli ufficiali più giovani e radicali delle forze armate che sognavano un cambiamento di regime. Colpo di Stato. Strano ma vero. La politica burkinabè è proprio così. Colpo di Stato, colpo di Stato, colpo di Stato. Insomma, morto un papa se ne fa un altro. Cioè, morto Zerbo si fece Jean-Baptiste Huel Drago, all'epoca uno sconosciuto che lavorava come medico militare. Stavolta Sankara, siamo all'incirca nel 1983, diventa primo ministro e accetta volentieri. Il giorno del giuramento, nel febbraio 1983, Sankara promise che il nuovo governo avrebbe servito il popolo, non se stesso. E con popolo intendeva la classe indigente. Una promessa inedita, date le circostanze, perché a diventare bersaglio fu per la prima volta l'élite politica locale, e quella coloniale francese. Dobbiamo liberarci di loro, diceva Sankara nei suoi discorsi pubblici in giro per il paese. Quando il popolo si alza, l'imperialismo trema. Trema perché qui a Ouagadougou lo seppelliremo. I discorsi di Sankara colpivano la folla con la loro forza e la loro semplicità, il carisma l'oratoria e l'atteggiamento umile di quest'uomo lo avevano reso in brevissimo tempo un leader apprezzatissimo agli occhi dei Burkinabè comuni. Fin da subito Sankara elencò chiaramente i suoi obiettivi. Combattere lo stato di sopravvivenza in cui vessava il paese, democratizzare la società Burkinabè ripulendola dall'immobilismo, favorire l'emancipazione femminile, spezzare il gioco della corruzione, dell'ignoranza, della dipendenza economica coloniale e instillare patriottismo ai giovani, perché senza di questo si formavano soltanto potenziali criminali. Particolare fu la sua accusa la valuta Burkinabè, il franco CFA, la valuta coloniale imposta da Parigi che per Sankara stringeva in una morsa soffocante l'economia del paese. Il rafforzamento di una figura tanto rivoluzionaria quanto Sankara allarmò sia la vecchia guardia dell'esercito che le autorità francesi e, guarda caso, fu in quel momento delicato che l'allora presidente francese Mitterrand atterrò a Ouagadougou con l'obiettivo di marcare il territorio. Al suo arrivo la casa di Sankara fu subito circondata da mezzi corazzati e il primo ministro venne arrestato in via precauzionale. In risposta a ciò, dimostrazioni di piazza inundarono le strade della capitale al grido di Sankara libero. La liberazione ne consacrò l'ascesa alla presidenza. Sapendo di avere della sua il favore del popolo e anche della maggioranza radicale dell'esercito, il 4 agosto 1983 Sankara colse l'occasione al volo, annunciando via radio la formazione del Consiglio Nazionale della Rivoluzione, decretando la caduta del regime filocoloniale di Ouagadougou. Nemico dei formalismi e delle procedure burocratiche, Sankara non perse un solo minuto di tempo. L'agenda per riformare il paese e abbattere l'establishment, l'élite parassita filocoloniale, era fittissima. Una delle prime misure fu quella di mettere fuori legge i partiti politici, visti come espressione della corruzione della vecchia élite. Chiariamolo fin da subito, per evitare di illuderci tanto nella favola da mondo fatato. Non esistono santi. Forse esisteranno gli ignomi e gli elfi, ma che io sappia non i santi. L'atteggiamento di Sankara fu autoritario e spesso repressivo. Sankara fu un dittatore, chiaramente, un dittatore rivoluzionario, ma comunque poco incline alla condivisione del potere. La soppressione dei sindacati e le riforme al sistema giudiziario burkinabè dimostrarono la sua poca disponibilità ai compromessi, un atteggiamento dettato dalla necessità di cambiare decisamente le cose. I tribunali del popolo, modellati sulla Cuba di Castro e creati all'inizio per processare e fucilare gli ex governatori corrotti, si trasformarono in breve tempo in processi spettacolo, fatti per trasmettere l'idea di successo del regime di Sankara. Tuttavia, molto spesso, questi non erano altro che i regolamenti di conti per tenere sotto controllo la situazione. Gli stessi licenziamenti di massa dei dipendenti statali, per fare un solo esempio, furono un pretesto. In un paese dove lo stipendio di un dipendente pubblico era ben al di sopra di quello della maggior parte degli altri burkinabè, il governo Sankara licenziò con la motivazione della loro incompetenza buona parte degli statali che, secondo la versione ufficiale, trascorrevano le ore di lavoro nei bar, cosa verissima, ma che in realtà appartenevano a frange della vecchia amministrazione da estromettere al potere. Che non fosse tutto luci è ovvio, in parte era dovuto anche alla necessità di cambiare le cose in fretta. Sankara però aveva come modello di riferimento Lee Kuan Yew. Conosceva benissimo la storia di Singapore, della sua enorme crescita economica e che per sviluppare un nuovo Burkina Faso c'era bisogno di sopprimere molti diritti democratici. Non bisogna essere disillusi quando analizziamo Sankara, è bene tenere a mente anche questi aspetti oscuri. Con l'intento di simboleggiare la rinascita della nazione, il comitato cambiò all'unanimità il nome del paese da alto a volta in Burkina Faso, letteralmente la terra degli uomini integri. Un nome che si ricollegava con orgoglio all'identità storica dei Burkinabè. I cittadini si resero inoltre ben presto conto del carattere riservato di Sankara. Sankara disdegnava lo sfarzo e le cerimonie pompose che generalmente accompagnavano le alte cariche. Quadri e ritratti istituzionali del presidente, un'abitudine molto comune in Africa, vennero tutti proibiti e per scoraggiare il culto della personalità Sankara preferiva che non si cantasse in pubblico il suo nome. Mentre, per mescolarsi alla folla, una volta a settimana era solito giocare a calcio con i suoi consiglieri e il suo staff davanti ai passanti che potevano vederlo vestito in pantaloncini e maglietta. Questo almeno nei primi anni, prima che cominciasse a temere attacchi attentati alla sua stessa vita. Purtroppo questo è il prezzo da pagare per chi fa un colpo di stato. Vi ricordo il tutorial che ho fatto tempo fa al riguardo. Lo scopo di tutto questo atteggiamento informale era mandare un messaggio. Cioè che i leader dovevano essere modesti e che soprattutto in un paese così povero non potevano permettersi di fare la bella vita. Due terzi del parcomacchine del governo fu immediatamente venduto per far posto ad automobili piccole di bassa cilindrata. Quanto ai membri dell'esercito, questi furono distribuiti nelle fattorie di province e di confine per lavorare i campi. La motivazione era molto pragmatica, ma anche simbolica. Da un lato tenere lontani eventuali pretendenti al potere, ma dall'altro equiparare i soldati a cittadini comuni e non a membri di un gruppo privilegiato. L'attivismo e il tangibile interesse di Sankara per le questioni nazionali finirono per ispirare positivamente la gran parte della popolazione che nei grandi centri urbani e nei piccoli villaggi di periferia si mobilitò in massa per migliorare la qualità di vita del paese. Nel primo anno e mezzo di governo furono costruite 351 nuove scuole, 314 centri ospedalieri, 88 farmacie, 274 bacini idrici e più di 2000 pozzi per la raccolta d'acqua, mentre il reddito medio di cittadini salì del 27%. Riflettendo la tipica impazienza di Sankara con le procedure lente e burocratiche, il comitato rivoluzionario decise nel settembre 1984 di lanciare una campagna Lampo per vaccinare la maggior parte dei bambini burkinabè contro flagelli come morbillo, meningite e febbre gialla, e di farlo in un periodo di due settimane. Tempi inimmaginabili prima di allora. Al termine delle due settimane erano stati vaccinati più di 2 milioni di bambini. Per farlo, il comitato utilizzò annunci radio, pannelli pubblicitari e il buon vecchio passaparola. Come dichiarato dall'Unicef, l'operazione evitò che una fascia tra i 20 e i 50 mila bambini morisse per le solite epidemie che affliggevano una nazione. Ma anche la questione dei diritti e della parità femminile entrò in gioco con Sankara. La nuova leadership denunciò la mentalità feudale e patriarcale che opprimeva le libertà delle donne burkinabè. Gli sforzi di Sankara si indirizzarono a fissare un'età minima per il matrimonio, stabilire il divorzio consensuale, riconoscere il diritto all'eredità della vedova e lanciare campagne contro la mutilazione genitale femminile, il matrimonio forzato e la poligamia, pratiche comuni che purtroppo erano ben radicate nella società burkinabè e che, nonostante gli impegni, rimasero comunque anche dopo la morte di Sankara. Quanto alla cultura, il regime di Sankara incentivò la riscoperta della cultura etnica burkinabè. Oltre a riformare i programmi scolastici, cosa che magari servirebbe qui in Italia, per favorire le molteplici lingue locali, Sankara combatte contro l'altra piaga del paese. Vale a dire l'analfabetismo, sostenuto da un taglio delle tasse scolastiche in media del 50%. Nell'arco di soli 4 anni il tasso di alfabetizzazione schizzò dal 13% al 73%. Questo tasso è sceso nuovamente al 40%. Il modo in cui Sankara voleva trasformare il paese era molto diretto, cioè migliorare la vita della gente comune e farlo attraverso un trittico cultura, cibo e lavoro. L'ambizione era quella di garantire al cittadino due pasti al giorno e acqua potabile, un privilegio scontato nei paesi occidentali ma che per il Burkina Faso era davvero sconvolgente. Lo slogan di autosufficienza utilizzato da Sankara non implicava isolare totalmente il Burkina Faso dal resto del mondo. Dalle risorse minerali nel nord del paese fino ad arrivare al commercio, il monopolio doveva essere tolto completamente ai coloni stranieri e andare ai Burkinabè. Con lo slogan Produciamo e consumiamo Burkinabè, il governo Sankara incoraggiò così i cittadini a produrre di più con materiali locali e a comprare più beni fatti in loco. Ai panettieri fu imposto di includere mais locale nelle farine, piuttosto che il grano di importazione, mentre ai funzionari pubblici di indossare nelle cerimonie ufficiali il Faso Danfani, tipico vestito tradizionale Burkinabè. Per le donne che fabbricavano tessuti, il Faso Danfani era più di un messaggio politico. Divenne un'importante fonte di reddito, stimato in totale nel 1987 per più di 600 milioni di franchi CFA, quasi un milione di dollari. Quanto agli aiuti internazionali, Sankara era piuttosto contrario all'intervento esterno. Era consapevole che soltanto i suoi stessi abitanti potessero contribuire a migliorare il Burkina Faso. Chi ti dà da mangiare ti controlla. Questa era la massima che esemplificava l'inclinazione di Sankara a rifiutare tutti i prestiti stranieri. Justin Damobarro, ministro delle finanze nel regime di Sankara, cercò in più di quattro occasioni di convincere il presidente a chiedere assistenza al Fondo Monetario Internazionale. Tutte le volte Sankara rifiutò con la motivazione che le condizioni dei prestiti del fondo avrebbero segnato la fine della rivoluzione, affidando le decisioni in materia economica del Burkina Faso a un'entità esterna. A sostegno dell'economia, il regime abolì invece le vecchie tasse di stampo coloniale in porti modesti che, per chi abitava nei villaggi più poveri, erano però impossibili da pagare e valorizzò il mondo delle piccole imprese, da quelle edili a quelle alimentari di carne, sgravandole da esorbitanti costi per l'acquisto di macchinari e facilitando i contatti con gli investitori stranieri, specialmente quelli svizzeri. Il PIL, negli anni in cui Sankara fu al potere, crebbe dal 12 al 18%, mentre la spesa per gli investimenti pubblici salì dal 22 al 43%. Considerato poi che oltre il 90% dei Burkina Bell lavoravano nel settore agricolo e nella produzione di cotone, molti degli investimenti del piano quinquennale di sviluppo furono indirizzati all'agricoltura. Nella valle di Suru venne eretta in pochi mesi, con il lavoro volontario, una diga che permise di irrigare 16.000 ettari di terra per la coltivazione di cereali, riso e canna da zucchero. Con i nuovi progetti, la produzione cerealicola crebbe di oltre il 75% tra il 1983 e il 1986, un incremento che contribuì ad abbassare la piaga delle carestie del 30%. Sankara sapeva benissimo poi quanto fosse importante l'accesso alle risorse idriche e la necessità di alberi da piantare. Il deserto e la desertificazione sono alle nostre porte, ripeteva spesso ai suoi comizi. Questa politica ambientalista, innovativa sotto tutti i fronti dell'Africa subsahariana, fu divisa essenzialmente in tre punti. Spezzare l'abusivismo dei tagliaboschi, che commerciavano legno senza licenza, incarcerare chi appiccava fuoco alle sterpaie per liberare i terreni agricoli, promuovere l'installazione di nuovi alberi a ridosso del Sahel. Per quanto difficile, l'operazione riuscì comunque a piantare oltre 10 milioni di alberi. Quanto alle industrie di Stato, molte di queste operavano nel settore minerario. Tra i più abbondanti vi erano rame, zinco, manganese e ferro, ma era con l'oro che il Burkina Faso eccelleva, essendone oggi il quarto produttore mondiale per estrazione. Queste imprese statali per Sankara erano però il simbolo di potere della vecchia classe dirigente che si passava ai posti di lavoro di parente in parente. Ma parliamo un attimo adesso di politica estera. Ecco, qui Sankara si mosse coerentemente con quanto fatto in Burkina Faso. Anzitutto stabilì chiaramente che il Burkina Faso non avrebbe più seguito le direttive di Parigi o di Washington. Sottolineò poi che, in quanto nazione sovrana, il suo paese avrebbe stabilito relazioni con qualsiasi stato desiderasse e che il suo governo avrebbe fatto di tutto per ottenere una vera unità panafricana. Questo approccio radicale allarmò da subito sia i principali governi occidentali che i vicini africani più conservatori, tra cui il Mali, il Togo e la Liberia. Quando il presidente francese Mitterrand visitò Ouagadougou nel novembre 1986 si trovò di fronte a un paese molto cambiato. In quell'occasione Sankara denunciò apertamente Parigi per le sue politiche oppressive in Africa e ricordando lo spirito della rivoluzione francese del 1789, Sankara affermò di essere disposto a migliorare i rapporti con l'Eliseo qualora questo concedesse al Burkina Faso delle armi da poter inviare alle forze di liberazione di Mandela in contrasto all'apartheid sudafricano. Con quell'uomo problematico, avrebbe rivelato Mitterrand al presidente maliano Traoré in riferimento a Sankara, non è facile dormire sogni sereni. Quanto al governo statunitense, sebbene non considerasse il Burkina Faso come un territorio strategicamente importante, questo osteggiò apertamente Sankara definendo il suo un regime oppressivo delle libertà individuali. Con questa motivazione, ad esempio, al presidente fu vietato di atterrare ad Atlanta durante la sua visita ufficiale a New York nell'ottobre 1984, quando Sankara tenne il suo famoso discorso alle Nazioni Unite. Io non ho la pretensione di annoncare dei dogmi, non sono un messie, non un profeta, non ne detti nessuna verità. Ma sola ambition è una double aspirazione. Premi, poter in un langage simple, quello di l'individu e la clarté, parlare al nome di mio popolo, il del Burkina Faso. Devemmeno, poter in un progetto anche, a mio modo, la parola del grande popolo dei desirizzati, ciò che appartiene a questo mondo che l'on ha malicieusement baptizzato «Tierre Mondo». E dire, anche se non riesco a farlo vedere, le ragazzo che abbiamo per riferi. La politica di assistenza e d'aide non ha abouti qu'à noi disorganizzare, a noi asservire e a noi responsabilizzare in nostro espace economico, politico, economico e culturale. I finanziamenti il Burkina Faso li cercò da altri stati. Olanda, Giappone, Canada, ma soprattutto Unione Sovietica, Cuba, per un certo periodo la Libia di Gheddafi e soprattutto la Cina di Deng Xiaoping, che offrì un prestito senza interessi di 20 milioni di dollari per investimenti agricoli. Sul finire degli anni Ottanta, una delle questioni economiche più scottanti che riguardava l'Africa era poi l'enorme debito estero che gravava sul continente, circa 200 miliardi di dollari nel 1986. I pagamenti annuali di questi debiti, generalmente contratti nei confronti di agenzie di banche e istituzioni occidentali, bruciavano in media il 40% dei ricavi derivanti dall'esportazione dei paesi africani. Questo lasciava poco spazio al loro sviluppo. Criticando il passivismo dei leader africani, Sankara in un famoso summit panafricano nel 1987 avanzò una proposta audace, cioè che l'Africa collettivamente si rifiutasse di pagare i debiti contratti con l'Occidente. Una spiegazione motivata in maniera molto semplice. I paesi africani non avevano i soldi per farlo. No possiamo non rembourser la dettere perché non abbiamo bisogno di pagare. No possiamo non rembourser la dettere perché non siamo responsabili della dettere. Lorsque l'on parla oggi di crisi economica, non abbiamo bisogno di dire che la crisi non è venuta in una forma subita. La crisi existe di tutto il tempo. E la crisi ira in s'aggravant sempre che le massi popolari sono di più e più consciente dei loro face ai exploitati. Il y a crisi oggi perché le massi rifiutano che le richi sono concentrato nelle mani di qualche individu. Il y a crisi perché qualche individu déposano nelle banche a l'estranger delle somme colossali che servono a sviluppare l'Africa. Un povere, quando il volo, ne commettano un larcen o una peccadille, tutto solo per survivre, per necessità. Le richi, ce sono quelli che volano il fisico, le douano e che exploitano il popolo. Io vorrei che la nostra conferenza adopte la necessità di dire chiaramente che non possiamo non pagare la dettere. Non non in un spirito bellico, bellicista. ciò per evitare che noi non possiamo individuamente farci assassini. Se il Burkina facciamo tutti i rifiuti di pagare la dettere, non sarei qui nella prossima conferenza. Ma, con il supporto di tutti, dove ho bisogno, con il supporto di tutti, potremo evitare di pagare. I leader africani non fecero mai fronte unito, questo a testimonianza della discordia che regnava tra di loro. E fu proprio questa discordia, questa propensione alla corruzione a soffocare il sogno di Sankara, quando, ad appena 37 anni, la carriera del presidente venne bruscamente spezzata il 15 ottobre 1987 da un commando guidato dall'ex compagno e collega Blaise Compaoré, che con il supporto di forze esterne fece un colpo di stato nel paese. Grazie a tutti. Sankara fu seppellito in fretta e furia in una fossa comune e dichiarato un traditore della rivoluzione, un burattino paranoico e guidato da forze oscure. In pochi a Ouagadougou credettero a quelle accuse, infatti il progetto rivoluzionario di Sankara si era guadagnato molti nemici. La Francia era in cima alla lista dei sospetti, toglierlo di mezzo prima che anche altri leader africani ne seguissero l'esempio poteva essere una delle motivazioni, sebbene ancora oggi non ci siano prove ufficiali del coinvolgimento dell'Eliseo. Oltre alla Francia, sul banco degli imputati c'era poi tutta la classe dirigenziale burkinabè, l'élite ricca che prima di Sankara contava qualcosa. C'era anche la Liberia di Charles Taylor, appoggiata dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna nel loro piano di riequilibrio delle alleanze atlantiste. C'era infine la costa d'avorio di Ufouet Bouagny, che aveva stretti legami con Compaoré e che malvedeva il governo di Sankara. Il patrimonio lasciato in eredità da Sankara ai familiari fu una cosa piuttosto eloquente della sua condotta morale. Una casa, per la quale stava ancora pagando un mutuo, un'automobile, svariate biciclette, un frigorifero e una chitarra. Il suo stipendio mensile ammontava a 460 dollari e nel conto in banca i risparmi ammontavano a poco più di 100 dollari. Con la morte di Sankara il destino del Burkina Faso fu segnato definitivamente. Compaoré cancellò quanto di positivo era stato fatto e perseguì una politica ancora più repressiva di quella di Sankara, ristabilendo le vecchie gerarchie e senza dare minimo beneficio al popolo. Il paese doveva continuare a chinare la testa. E così è ancora oggi, a 34 anni di distanza, con i Burkinabè che in media vivono con meno di 2 dollari al giorno. Domanda lecita, cosa ci resta della rivoluzione di Sankara? La risposta potrebbe essere la memoria di un visionario. L'esempio che ancora oggi, nonostante tutto, è possibile migliorare le condizioni di un continente come l'Africa se solo lo si volesse. Sankara è l'uomo che, più di ogni altro, ha incarnato il senso di amore per il proprio paese. Ad oggi, nel paese, una statua inaugurata nel 2019 ne commemora il ricordo a Ouagadougou. Quella statua, con il pugno sollevato, riesce ancora a trasmetterci una delle frasi più emblematiche di Sankara. Potete anche uccidere i rivoluzionari, ma non le loro idee. C'è difficile di se presentare se stesso perché... ... 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